Il Cilento è una terra ricca di storia, cultura e tradizioni. Quello che vi racconteremo in questo viaggio è la storia di Cannalonga, un paese in provincia di Salerno, che ha origini antichissime. La storia di Cannalonga, che è la storia di Cannalonga, che è la storia di Cannalonga? Che c'è? Ti hanno fatto una cosa qua, c'è una bocca di Greta. Questo è pure rotto. Non sono solo umani. Buonasera a Gia Dotto il dottore Di Gregorio fa una ricetta, domanda a Iddo che sempre sa, è buono. Permesso? Avanti. Buonasera. Ciao. Buonasera. Dottor? Dimmi. Vieni a chiedere prima la ricetta. Hai girato questa cosa qua? In dalla terra? Visto che siete esperto? Un esperto non direi proprio, solo uno che è appassionato di queste cose. Ma questo sembra un reperto molto antico, veramente molto antico. Ma hai dato una cosa? Eh, mentre stiamo zappando la casa in dalla terra, è super questa cosa qua. Ma sai che questo sembra una cosa, addirittura credo greco, romano. Tieni conto che noi siamo abbastanza vicini a Velia dove c'era una importante colonia greca e siamo oltretutto vicinissimi alla Civitella dove lo stesso c'era un insediamento, credo militare. E questo è un reperto probabilmente che viene proprio da là. Sì, tutto, ma che è? È una tazza, è uno vocale. Qua c'erano degli accampamenti, probabilmente se i soldati che stavano lì sulla Civitella si accampavano anche magari più a valle, è zonata. E ne avevano loro. E utilizzavano queste cose. Ma questa è una cosa di grande interesse. Ottima quest'acqua. Da queste parti i turni di guardia sono stancanti, bisogna dissetarsi. Sei della zona? Toreva. Adesso è popolata in prevalenza dalle famiglie della guarnigione. Secoli fa contava più di 3.000 abitanti. A Velia l'acqua non è più buona da decenni ormai. Da quando le frequenti inondazioni hanno ricoperto le sorgenti e parte della città di Fango. Fin anche i porti sono parzialmente interrati. Da quando i commerci di Roma non transitano più dal porto di Velia, la vostra città è in declino. Beh, la pausa è finita. Continuiamo la nostra guardia. Continuiamo la sua. Continuiamo la sua. Continuiamo la sua. si suppone che la catastrofe avvenne durante un terremoto che causò il cedimento della montagna e l'alluvione che distrusse velia e pestum come ipotizza lo storico locale pietro carbone nel suo libro una favola per tolve che scrive secondo alcune storie tramandate verbalmente dagli anziani del posto via tomola si chiamava via toreva da cui il nome del paese pare che tutto l'abitato sorgeva sul colle tempare turco attuale pietra alta posizionata est della diga carmine la montagna nella parte che si espone sulla diga ha una nuda prominenza di grossi massi ai lembi della diga invece sono visibili diversi strati di terra non uniformi il che significa che ci fu un deruppamento di terreno di proporzioni ingenti dalla sovrastante montagna che colmò di colpo la sottostante vallata dove forse sorgeva toreva nel secolo diciassettesimo un alario storico parla di tolve e dice che a monte di cannalonga esisteva una città di quel nome distrutta da un evento catastrofico pare che l'avamposto di tolve fosse la civitella dove attualmente è zona di scavi archeologici infatti la stessa sorge in correlazione viaria e altimetrica dal punto in cui sorse la vecchia cannalonga la civitella sembra essere più antica di elea per cui quell'oppidum doveva proteggere il passo alfa sulla via del sale e un centro abitato tolve la città vista dalla valle si presenta con mura robuste poco alte che delimitavano sul torrente e che proseguendo su ambo i lati correvano a monte fin sotto tempo a returco a formare quasi un esagono regolare vi abitavano circa 3000 persone che probabilmente si scontrarono anche con elea quando la supremazia della città di mare ebbe il suo splendore civitella diventò avamposto di velia e toreva iniziò a spopolarsi nell'anno in cui i romani vinto pirro e liberatisi definitivamente dalle catastrofiche insidie di annibale divennero gli incontrastati padroni di tutta italia forse toreva era già mezza spopolata non siamo sicuri se la storia si è andata davvero così possiamo dire però che la preistoria ha visto l'homo sapiens costruirsi gli utensili proprio qui a canna longa in occasione di una ricerca archeologica per individuare testimonianze preistoriche nel cilento montano alcuni studiosi del gruppo speleologico del club alpino italiano sezione di napoli a canna longa sui terrazzi fluviali della madonna del carmine rinvennero ben 881 reperti di selce che furono portati a napoli ed esposti a castel del lovo recentemente grazie all'interessamento del professor don luigi rossi la metà è stata restituita al paese e conservata in apposita bacheca nella chiesa di canna longa a disposizione degli studiosi e dei visitatori gli utensili in pietra lavorata ritrovati nella zona appartengono a un periodo che va dal paleolitico inferiore a quello superiore in particolare nella zona dei terrazzi alti sono stati ritrovati prevalentemente manufatti in selce di fattura molto primitiva in quanto risalenti alla prima fase paleolitica circa 400 mila anni fa si tratta di raschiatoi bulini punte becchi nella zona dei terrazzi medi è stata trovata una quantità minore ma più variegata di oggetti si tratta di manufatti più elaborati spesso costituiti da selce pura e di dimensione più ridotte tali materiali sono riconducibili in larga prevalenza al paleolitico medio fase musteriana nella zona dei terrazzi bassi quella più vicina alla chiesa della madonna del carmine il materiale ritrovato si fa risalire al paleolitico superiore quando la produzione di manufatti e utensili si giovò di un notevole miglioramento del livello tecnologico dai ritrovamenti possiamo avanzare delle ipotesi abbastanza verosimili ossia la presenza dell'uomo preistorico in questo sito cilentano si tratta di gruppi di uomini nomadi cacciatori raccoglitori che si spostavano per procurarsi il cibo vivevano all'aperto o in ripari occasionali costituiti da anfratti o grotte di cui il territorio è ricco e che divennero con il tempo timora più stabile